Bentornati amici di MyFootballJersey. Vediamo un'altra anticipazione per il prossimo campionato. Questa, in base a quello che ha trapelato, dovrebbe essere la prima maglia del Barcellona in edizione FAN. La prima maglia del Barcellona in edizione FAN. Vi ricordo che sono ancora anticipazioni. Le maglie non sono ancora ufficiali e queste vengono prodotte in base a delle informazioni trattelate sul web. La maglia però è fatta molto bene. A me tra l'altro piace molto. Mi piace molto il tono dei colori blu e rosso che sono stati scelti. Vi ricordo un pochino il passato. Il costo, l'avete visto, molto basso, include anche le spese di spedizione. Tutti i dettagli li trovate in descrizione. Prima di lasciarvi la parte finale, mi raccomando, iscrivetevi al canale e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Per oggi è tutto. Alla prossima!